ciao a tutti amici e amiche di youtube sono in questa in questa bellissima posizione sono seduta per terra per farvi vedere un pochino di lucine e ho messo anche questo cappellino con le renne che si illuminano e un brutto maglione di natale per augurare a tutti un ottimo natale un felice natale uno splendido 2019 e mi scuso per la voce anche per la faccia ma sono un pochino malaticcia oggi quindi vabbè mi presento io sono francesca ho un piccolo piccolo canale qua su youtube che si chiama francesca bisogno dove carico canzoni che faccio con basi con basi karaoke che vengono da un app che si chiama smil e volevo dare un bacione gigante a giola masca che mi ha dato l'opportunità di partecipare a quest'altra edizione del soli dal tube e anche augurare buon natale a lei e a tutti i partecipanti ciao a tutti io sono e dai e michael 2001 ho deciso di partecipare all'edizione natalizia del soli dal tube perché penso che sia un'idea fantastica per fare a tutti voi gli auguri di buone feste inoltre volevo dirvi che come penso già tutti noi sappiamo questo è il periodo più bello dell'anno dove trascorriamo tantissimo tempo con i nostri familiari con chi vogliamo bene e inoltre si ride si scherza e si gioca per cui sarebbe meglio che tutti noi placchiamo i nostri animi e viviamo questo periodo al meglio approfitto per fare gli auguri di buone feste anche a tutti gli altri partecipanti del soli dal tube in particolar modo a giola masca che è lei la l'ideatrice di questo fantastico progetto non so bene cosa dirvi se non augurarvi ancora buone feste l'editorezza sei pronta la novità presto questi video saranno pieni di effetti speciali sei pronta a fare l'albero in natale perché butti l'albero per le scale così si addobba si può sapere che ci fa l'albero in natale dentro al lavello si sta davanti le palle ma levati come facciamo a fare gli effetti speciali senza albero ho 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 buon natale brash ho portato effetti speciali di natale ah si bravo hai portato pure l'albero calcolo brash di qua c'è tutto a fare che serve per te iscriviti al canale se vuoi passare un buon natale per genio youtube è solidale e anche la mia magia è reale che credi di fare? e non volete un bambino di natale? lascialo subito! ciao a tutti sono ellis come sempre in tuta io vi auguro un buon natale e un bacio a giorgia e un bacio a tutti voi mi racquando iscrivetevi al canale e seguitemi sempre buon natale! tantissimi auguri a tutti da claudia del canale del benessere ovvero io se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi vi aspetto ciao buon natale! e bella a tutti ciao a tutti amici e amiche mi chiamo vincenzo il mio canale si chiama inside 2games e principalmente porto gameplay ma ultimamente sopportando anche tanti vlog trucchi di magia e tante cose voglio approfittarne in questo periodo in questo solida tube christmas edition per augurarvi a tutti un buon natale buone feste buon anno per magari per chi è impegnato già magari youtube lo guarda uno però non lo guarda più quindi buon anno anche buon natale e mi raccomando sempre col sorriso siate buoni perché se non siete buoni a natale quando volete stare e mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni all'insù iscrivetevi a tutti i canali che vedete nel solida tube mi raccomando siate buoni perché a voi un like non costa niente noi lo apprezziamo tantissimo un bacione mi raccomando siate solidari siate solida tube ciao a tutti sono valentina dolce sono una youtuber e sto partecipando a solidar tube organizzata da jo la masca la mia amica io sono una youtuber che fa dei video misti del tipo do il buongiorno do la buonanotte vi auguro il buon lunedì buon martedì mercoledì giovedì di sabato eccetera eccetera faccio video sul make up sulla cucina sulla pasticceria sui dolci e anche sul mio gattino giulio e sulla mamma di giulio oggi vorrei proporvi questo video ieri sono andata a lao shan e mi sono regalata sotto a ing sto cesto di twining che stanno uno due tre quattro cinque pack di tè da dieci a testa due tazze di con i piattini della twining la gran pasticceria vanno i pasticcini anche è un libro un libro diciamo dove ti spiega come si fa il tè e altro quindi sono fiere di partecipare a solidar tube un bacio a tutti voi spero che mi seguite ciao ciao a tutti io sono follettina creation sono felicissima di partecipare al questo solidar tube christmas edition e il mio canale tratta di vari argomenti video assaggi bambole reborn e video spacchettamenti di regali che mi fanno i miei iscritti e letterine o di regali della mia lista amazon oppure di merce che mi manda l'azienda per fargli pubblicità e challenge che faccio da sola che dire se vi va di iscrivervi al mio canale mi farebbe molto piacere un bacione e buone feste di natale a tutti ciao salve a tutti ragazzi io sono qui per augurarvi buone feste ma prima però vorrei ringraziare la nostra cara amica giola masca che mi ha permesso di fare questo video con la sua bellissima iniziativa e niente io vi auguro davvero di cuore buone feste sperando che siano veramente giornate di gioia e non sentire più brutte notizie insomma però una cosa voglio raccomandare io vi trovo a dire fate buone a natale no sbagliato i buoni dovete farli tutto l'anno tutto l'anno si fa i buoni non si fa solo a natale augurone a tutti bacione ciao a tutti ragazzi sono giola masca e spero che quest'anno come i prossimi anni voi possiate passare un bellissimo natale dei bellissimi momenti ma non solo natale spero che possiate in generale passare una bella vita e possiate trovare la serenità e la felicità che vi serve mi auguro soprattutto che questo progetto possa far capire a tante persone quanto è importante l'unione e la collaborazione tra persone non solo youtuber spero in qualche modo di riuscire a strappare un sorriso con questo video ringrazio tutti i partecipanti del solido al tube ma proprio tutti 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 non solo questi di quelle di non solo quelli di questa edizione ma anche quelli delle edizioni precedenti e di quelle future grazie mille ragazzi per aver dato voce ad un progetto che non pensavo mai che avrebbe funzionato oltre la prima edizione quindi grazie e buon natale ciao ho dimenticato una cosa molto importante bambini e non solo babbo natale esiste voglio soltanto dirvi questo anche se potrà essere strano detto da un adulto ma penso che sia che sia possibile che un personaggio come buon natale esista nel cuore di tutti noi nel cuore di chi di chi l'ha sempre amato di chi l'ha sempre aspettato e non deve essere per forza una figura come si dice vera e propria ma è uno spirito e babbo natale quindi esiste siamo noi a farlo esistere ed esisterà sempre mi piace Grazie a tutti.